Firmato questa mattina il protocollo di intesa per la prevenzione e il contrasto della violenza domestica e di genere attraverso la promozione ed attuazione dei programmi di recupero degli autori di reato. Un documento siglato nella Sala Emanuela Loi della Questura di Caltanissetta, tra la Questura Nissena per l'Appunto, l'Uepe, Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Caltanissetta ed Enna, e le cooperative sociali Etnos e CPM, Centro Italiano per la Promozione e la Mediazione. Un protocollo che è stato avviato anche in altre città ottenendo buoni risultati e così anche a Caltanissetta si avvia un progetto che punta ad evitare che il comportamento venga riproposto, invitando i destinatari dell'ammonimento del questore per atti persecutori, violenza domestica, ma anche nei casi di cyberbullismo, a frequentare un programma di recupero che viene organizzato attraverso i servizi del territorio.